Un terreno adibito a piantagione di canapa indiana difficilmente visibile, ma scovato grazie all'attività info-investigativa dei carabinieri della stazione di Granieri, con il supporto dei militari dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia. In tale contesto i militari sono riusciti a scovare un'area rurale nella disponibilità di un'azienda zootecnica dedita alla produzione e vendita al dettaglio di marijuana. Due, nel caso in specie, le persone ritenute responsabili del reato di detenzione finalizzata allo spaccio e coltivazione illecita di stupefacenti. Si tratta di un 41enne di Gran Michele arrestato in flagranza di reato e il fratello di 43, nei confronti del quale è però scattata solo la denuncia. I carabinieri si sono imbattuti in un'azienda zootecnica ubicata in contrada Fontana che bolla, in territorio di Gran Michele. I carabinieri hanno fatto eruzione previa perquisizione e hanno rinvenuto e sequestrato 800 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento. Sul terreno dell'azienda, 40 piante di cana pendiana di circa 2 metri di altezza, oltre a 100 grammi della medesima sostanza, nascosti tra la camera da letto e le altre stanze dell'immobile abitativo. L'arrestato, del quale non sono state fornite le generalità, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari. Nel corso degli ultimi due anni, i carabinieri della compagnia di Caltagirone, retta dal capitano Sergio Vaira, hanno inflitto duri colpi al mercato nero della droga e alla criminalità dedita al traffico e alla detenzione degli stupefacenti.